Guida Sicura con Gruppo Scuole Guida Bellunesi In questa puntata insieme ad Alessandro cerchiamo di capire quali siano le prove su strada a cui verranno sottoposti i neopatentati, i guidatori che decidono di fare ancora un po' di pratica e ovviamente i ragazzi delle scuole coinvolti nei progetti che abbiamo già spiegato. Sì, noi in collaborazione con l'ACI portiamo avanti il progetto Ready to Go che ci permette di avere degli spazi a disposizione dei nostri allievi per riuscire a fargli affrontare quelle prove che gli permettono di capire un attimino quello che ha il limite fisico del veicolo quando stanno in strada, come comportarsi nelle eventuali situazioni di emergenza, capire anche e riuscire a sfruttare correttamente quelle che sono le caratteristiche dei veicoli di nuova generazione, tutti gli aiuti elettronici, le capacità che ci può dare il nostro autoveicolo per riuscire a mantenere e ottenere una migliore sicurezza quando circoliamo in strada. Prima di salire in macchina e di vedere le prove dal vivo volevo chiederti una cosa molto importante che ho appena accennato. Queste prove sono rivolte ai neopatentati, ai ragazzi delle scuole che aderiscono al progetto, però anche le persone che hanno già da molti anni la patente possono venire a provare. Esatto, noi organizziamo sempre degli eventi che sono da prima aperti a chi si appoggia e segue il corso da noi, però creiamo anche degli eventi aperti al pubblico, in modo che comunque anche chi può essere interessato, chi ha voglia, piacere di poter capire un attimino di più, di mettersi un po' in gioco e riuscire a poter affrontare questa nuova esperienza. Guida Sicura con Gruppo Scuole Guida Bellunesi